Io rispetto sempre i programmi. Panda King e lo Shimano sono in posizione sotto il palazzo. Entra e così possono cominciare con esplosioni. Speriamo che lo facciano con stile. Ok ragazzi, sono qui sopra. I vasi attorno a te fanno parte di un'antica tecnica di sicurezza cinese per scoprire i ladri sottoterra. Se scaviamo un tunnel, faremo tremare tutto il palazzo. Capito. Se un vaso si rovescia, fa scattare la merda. Esatto. Non farmi cadere. Io mi metto nelle tue mani, Sly Cooper. Salveremo Jim King, te lo prometto. Affedala, affedala. Lo Shimano ha ragione, cominciamo lo spettacolo. E' un'antica senza più. Fai spettacolo. T Grey. Se un'antica tecnica di sicurezza. E risultato. E' un'antica tecnica di sicurezza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.